1987 cislago 2024 cislago saronno guanzate gerenzano turate fagnano boldo e carnago c'era un piccolo semi sul nostro pianeta giorno dopo giorno anno dopo anno è cresciuto sempre di più fino a diventare una rosa ma non una rosa qualunque la nostra rosa ogni petalo è sostenuto con estrema cura pazienza attenzione solo così può brillare di luce propria sapete siamo così orgogliosi della nostra rosa che abbiamo deciso di mostrarvela in tutta la sua bellezza per cui abbiamo organi ehi ma alessandra ehi buongiorno a tutti oggi per voi ho un'offerta che non potete rifiutare infatti il 27 di aprile io e i ragazzi del granello vi aspettiamo numerosissimi al teatro repower di assago mi raccomando ci sarà uno spettacolo meraviglioso che si intitola tutti pazzi per i musical e aspettiamo anche te proprio così il 27 aprile 2024 al teatro repower di assago abbiamo organizzato un evento davvero importante sarà un viaggio attraverso tutti i mondi in cui abbiamo vissuto dalla pazzia del paese dei balocchi alle giacche di pelle di gris dal tendone del circo a quello essenziale che è invisibile agli occhi ci saranno persone importanti volte a noi una l'avete già scoperta non sarà semplicemente un meraviglioso spettacolo ma il miglior modo per continuare a far crescere la nostra rosa e per riuscirci abbiamo bisogno di tutto il vostro aiuto perché è grazie alla vostra generosità all'impegno e la fiducia che siamo arrivati fino a qui il sostegno ricevuto in questi anni ci ha permesso di sognare sempre più in grande e di realizzare obiettivi apparentemente inarrivabili e noi non ci fermiamo taylor barnum un imprenditore a volte scaltro ma certamente un uomo dalle idee brillanti e un fiuto futuristico per gli affari alla sua storia leggendaria è ispirato il grande show e il successo è stato grande puntiamo sempre più in alto e per questo abbiamo bisogno di un nuovo mezzo di trasporto per poterci spostare e poi siamo sempre di più quindi abbiamo anche bisogno di un nuovo centro e poi siamo sempre più autonomi quindi abbiamo bisogno di appartamenti e già proprio come ha detto poco fa il piccolo principe con il vostro aiuto potremmo finanziare la ristrutturazione di una parte di edu lab nella sede di saron dove apriremo finalmente un nuovo centro di urno un appartamento per quattro ragazzi e potremmo comprare un pulmino che è sempre utile per i nostri spostamenti sostenerci è molto semplice qui in discrezione c'è un link che rimanda ad un form da compilare una volta compilato vi contatteremo direttamente per indicarvi come procedere se vorrete potrete anche detrarre fiscalmente in alternativa potete contattare direttamente questo numero 342 18 64 102 oppure mandare una mail a questo indirizzo prenotazioni chiocciola granello meno coop punto it nella descrizione qui sotto troverete tutti i dettagli beh da tutto il granello cominciamo a dirvi grazie ci vediamo il 27 aprile e cambieremo il mondo cambierà davvero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti